Per voi, con voi, da voi, di voi. Allora, questa è una barzelletta che io l'ho raccontata tempo fa, però vedo che ne raccontano tante, ognuno a suo modo chiaramente, perché la barzelletta uno la racconta come vuole. Allora era che il 21 che aveva il 90 e aveva di fare il rinnovo del patente. I parenti che aveva imporre che il nonno la si va a fare un casino, sono l'ingegnere d'autoscuola e domani vengono a fare il rinnovo del nonno, per il plasere bisogna di togliere il patente, perché non c'è paura. Allora arriva e il saluto arriva domani. Bozzolo, signor ingegnere Bozzolo. Oh carissimo, venga, allora com'è? Sì, allora saluto per rinnovo che caglie le visite a Torino, o Milano, o gli altri che? L'oculistica può essere? Ecco, io sto bene anche di chiave, io però le robe sono cambiate. Sì, sono domande di fare, un senore, hanno tutte le domande e non ponendo le patente. Oh che miseria! Beh, comunque io sono preparato, perché sei roba di scuola, quindi io anche ora sono lucido. Allora, com'è lì, è la prima domanda che ha. Lui ha detto, digno, notte, strada buia, vede venire vicino un fanale verso di lei. Che cos'è? Eh, non è un fanale, è una moto. Sì, una moto, ma che tipo di moto? Una Kawasaki? Un'onda? Un Early Davidson? Eh, ma se mu' si faccia, sapete? Sì, io ho capito, è un fanale, digno. Vi ho detto, vi ho detto, sono domande di come fare, che domande in particolare? Eh, oh che miseria! Ma facendo altre domande, domande, digno, sempre nelle strade buie, vedo due fanali che arrivi in doggie, c'è Isa. Ed io, sono due fanali, è un'autovettura, una macchina. Sì, ma che tipo? Io ho una FIA, io ho una Mercedes, io ho una Citroën, io ho una Renault. Ma c'è domande, è difficile, no? Una macchina, no? Bisogna sapere, un male, le cose nelle strade, le dische, dove c'è? Eh, ma porca miseria! Boh, facendo un'ultima domanda, però se non passa che domande c'è, non puoi. Boh, capite? Allora, invece, sempre di noi, due fanali grandi, una ria di fanali per l'ora, che arrivi in doggie, no? Notte fuori, ma arrivi in doggie, grandissimi, ci arrivi. E lei è un camion? C'è lì, lei è sicuro un camion? Sì, ma è un Iveco, un FIA, un Volvo. Ma se non si fa... Eh, vi odia, vi odia, se non mi dispiace, il Beppi, ma io non puoi stare nell'abilità, no? Ma che miseria! Ecco, ma... E noi, purtroppo, se vediamo al prossimo... Porca miseria! Boh, eh! Ah, beh, boh! E se non si fa per la via, scusi, signore, ingegnere, poi lo faccio io domande. Come dici? Allora, lui ha letto d'ignore, no? De strane, scure, no? Ecco, in bandale, un... 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 Grazie.